holo raga quel super torneo noi siamo 28 left si chiama solo che roba strana va bene speriamo di non beccare un altro asso asso cupo ok che notai su marcus mi dovete dire il tavolo e il torneo raga se no non ho idea snap call ed eccolo qua check fold dopo lo snap che aveva fatto ok eccolo noi scipiamo cooler per lui vamo son noi ok sul dici adicino in di è al sky blue Grazie a tutti. Non credo di poter fondare mai, a volte è colore ma a volte si splittava, ma sarebbe dovuto fare una size molto più grande. Lasciavamo 25x su un open di reg da Katoff, poi lascio 4 suited. Qua la gestazione tardiva è praticamente chiusa, solo 5 vanno a premi, un 500 al primo. Ciao, Simo. Ok, good luck raga. Good luck. Good luck. Grazie. Grazie. 20 left al super torneo. Noi avinciamo finalmente un bel flip, qui ci porta secondi in chips, e qua pure saliamo abbastanza, diventiamo secondi su 11. 15. Poi da troppi check show, vi se betto, quindi andrò sul check. Noi, non mi dispiace, abbiamo poco problemi, 3, 5, no. Ok. non dovrebbe avere nessun ZX può avere colore può avere full ma così lo vedo di raccallare con diverse cose lo mettiamo in un burn spot comunque scacciante può fare tanti tanti belli di raccall quindi mi piace poi ovviamente a volte perdiamo però non so nemmeno con quanta frequenza mi sciovi colore quando noi mettiamo pot al river quindi quindi si ha colore penso che alla fine chiama non faccio all in non sempre poi si ha colore all'asso si può anche sciavare per valut eh c'è scala wow è andato a flattare il mio open con 9 set ok ok poi ce ne parlo domani oh mio dio questo c'era la fa qua questo è questo colore questo qua se fa colore è tristissimo ma poi tanto dobbiamo KQ con l'acqua di fiori cioè dobbiamo vendare se c'è la soma se c'è colore la cosa perfetta Kjack K10 K9 diciamo un KX final table sign 5 vanno a preme a preme a 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 coppiettina dovrebbe sempre sciavare vediamo se riusciamo ad arrivare tm va bene quindi qua garantiti avevamo detto final table garantiti 35 euro 300 al primo adesso vi metto il payout quindi e vamos comunque si dal dal 28 agosto all'1 settembre io sto là e ha raddoppiato lo shot mannanzi la puttana va bene comunque due tavole finali se puoi ragionare i titoli eh mamma del tavore eh il turbo dip da 30 su 888 per 500 euro e alzo per torneo per 300 vabbè poco da dire poco da fare good luck ok yes vamos e qua show l'altro final table bene 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 così bene così un paio di mani carine e importanti entrambi se è quello più importante ovviamente il primo prende un bel po' di più via 500 euro alla fine entrambi fanno la forza se riuscissimo a vincerli entrambi parteremo la giornata in profit eh vincendo solo questo perderemo ancora poco un 101 così vincendo l'altro perderemo abbastanza 300 euro circa no 250 all'incirca oh K3 mi pare che aveva di più di Qjack se ha vinto lui è ottimo cioè se lui era più short è ottimo perchè lui era reggo e lui mi pare almeno lo tengo segnato vediamo lui chi è no pure lui è reggo ok se lui sciova lui folda chiamiamo non sono felice ma spero che lui resciova così eh vabbè dai abbiamo 32% al tar yes vops e qua ne è uscito un altro si ne è uscito un altro ecco ciò significa 7 left 49 euro garantiti ma sto qua sto cappa ok vediamo no l'ho la coda di più no vamo ok 6 left bolla piena c'è dog con meno di 2 bue that's fucking nice vops ok good luck ehm chiamo anche se se a volte potremmo tranquillamente stare sotto ma troppo corto troppo short per foldare quindi good luck ok good luck oddio l'altro tavolo abbiamo asso asso in buon la pena oh no azzacca che tuffo quello dai reggi sciova va bene speriamo che che limp sciovi tanto ho ancora tanta fold equity dai come vamo 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 2 game baciato da jesus ottima cosa che lui abbia limp scioviato io l'ha misura un sacco di volte quindi il suo sciovo è più che giusto nascendo a lui e amen sfortunato ovviamente è ci vediamo in itua prescindere qua 2 8 asso q ok nice c'è già la prima ladder ora vi metti i premi al volo al volo ma quanto sono i buoni 2 2 2 2 4 2 2 4 ma da terza non sarebbe mai venuto avremmo vinto però vabbè infinito play route 177 garantiti ok qua c'è un alline e un call deve vincere asso 4 nice sei left va bene sulla sua apertura sciaviamo asso 7 suited penso sia la fine alla fine 8 terzi raga allora abbiamo una promozione su stars allora dovrei averla perchè mi è arrivata prima l'email e l'ho vista durante la pausa dove sei ok offerta spin and go eccola qua apri effetto un deposito valido di almeno 300 euro senza dubbio potrezzare codice per ricevere dei ticket per spin and go il tuo premio 75 euro di ticket per spin and go così che ci giochiamo a 3 spin and go da 25 e se vinciamo qualcosa lo mettiamo nel profit della giornata abbiamo ancora una speranza hai ricevuto un baule vediamo un po' cosa ci da questo baule vediamo un po' cosa sarà e 25 euro spin and go oh oh jesus ok allora abbiamo uno spin da 50 da giocare e uno da 25 io pensavo fossero due da cioè tre da 25 ok 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 va bene allora raga abbiamo 75 euro regalati da stars per appararsi questa giornata vediamo un po' come andrà quindi per chiunque vorrà vedere i due spin and go magici che faremo dovete 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 attendere due shippati oh 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 magnifico e il pivion bravo tutte e due le vinte complimenti gg super gg eh fuck ha raddoppiato ha raddoppiato ha raddoppiato fux fux buona buona verdina Bla 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 Aiuto Non lo so, molto al limite Cazzo di chiamare Ok, che cazzo Dai, Olda che alternava nelle nostre mani Perdio, madonna Entrava proprio nelle nostre mani 160.000 150.000 No signore, no signore Non lo so, sono molto indeciso di Asta Non so se è sui siti per il CN o meno Ma Non so, sicuro Può essere Può essere, non riega Dai, girami che sasso asso Che lo voglio scammare facile Eh, va bene Deuses never loses Eh, ve l'ho detto L'ho chiamato, l'ho chiamato L'ho chiamato 22 bui Va bene, la nostra nuova Sempre per i famosi 40 euro Ah, se va 3 left 140 garantiti Grande, è già smart Per entrare su Telegram Altrimenti contattami su Instagram E te lo mando io In serata È grande Grazie La varianza della pubblicità Esattamente Potremmo chiamare ma tanto river Non l'avremo foldato Ah, non l'ho mai foldato river Eh, ok Eh, abbiamo anche Un castro per la scala Ok Facciamo solamente due spin di numero Non di più Ci sono i due Regalati da Poker Store Iniziamo con quello da 25 Lo facciamo uno alla volta Vediamo massimo focus Io poi non sono specialista a spin Quindi Vediamo Dal 75 Quello Già mi piace Già mi piace Già mi piace Eeeh Fuck Peccato Tanti out Ah Dio not now perché ha iniziato, good luck oh, vai per 3 anche qua, come on ok, 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 nice is up no, per chiamare ma proprio poche volte no, no, no avrei continuato su cuori river cuori tar cuori river cose che chiudevano scala avrei continuato quando si fossero richiesti dei progetti ma non è uscito un cazzo cioè non dovevamo pensare alle nostre carte principalmente dovevamo pensare a quello che rappresentavamo la maggior parte delle volte quindi progetti cose così top air a volte mette un corrento e non ti ci ci ok Bene Grazie a tutti Ok, vinciamo il centocinquantino finale Bene così, grazie stars Eh Pacone, quello non sto per i 12 ore, non ce la faccio Però vai Ciao raga, sono riuscito prima, terzo Vabbos, vabbos Ciao ciao